Quest'anno l'ETC di Aula intende arricchire l'offerta formativa con dei PON a 360 gradi. Le azioni saranno rivolte agli alunni interni facendo acquisire il Trinity per l'inglese e anche agli adulti esterni per il conseguimento della patente europea del computer. Inoltre ci siamo attivati per la formazione dei docenti, sia per la didattica rivolta in particolare agli alunni sia adulti che del corso diurno per permettere loro un confronto con i colleghi europei mediante un corso specifico di inglese. Inoltre la scuola si sta attivando di macchierari innovativi, si va dal completamento di una moderna serra all'interno della quale sarà sperimentata una nuova cultura, si è acquistato il macchinario specifico per sperimentare l'industria agroalimentare e dare le competenze per formare moderni imprenditori agricoli.